Anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria si schiera in prima fila a sostegno delle zone del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. La Giunta Camerale ha approvato un contributo straordinario di 20.000 euro destinata ad aiutare le imprese di 16 comuni appartenenti alle province di Rieti, Ascoli Picino, L'Aquila, Perugia, Tiramo e Fermo, un'area dove si contano circa 3.700 imprese, 600 delle quali con sede ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, con oltre 5.000 addetti totali, caratterizzata dalla presenza di attività produttive soprattutto di piccola dimensione. Spiega il Presidente dell'Ente Camerale Luciano Pasquale, per dimostrare la nostra vicinanza alle comunità colpite dal sisma e consentire la ripresa delle attività produttive abbiamo deciso questo intervento finanziario destinato ad alimentare il Fondo di Solidarietà istituito da Unione Camere Nazionale, creato proprio per raccogliere i fondi di tutte le Camere di Commercio. Il fondo sarà gestito da un apposito comitato composto dai Presidenti delle Camere di Commercio di Rieti, L'Aquila, Teramo, Perugia, Ascoli Picino, Fermo e da rappresentanti dell'Union Camera, che dovrà individuare gli interventi prioritari.